Un'edicola abbastanza decente rispetto al resto a quelle che sono qui nel quartiere Marconi. Una manutenzione non eccellente, ma insomma tutto sommato accettabile, benché non manchi la sporcizia delle aree comuni. Tanti bambini che giocano, mamme, nonne e passeggini al sole. Questo è quello che c'è sopra il terrificante pup di via Blaserna. Ci vogliono far credere che sopra i parcheggi interrati vi sia la morte. In realtà questo è il parcheggio, purtroppo non aperto ancora, ma tuttavia sulla superficie si è riusciti a dare dei servizi ai cittadini. Qui poteva esserci il solito piazzale pieno di macchine, come piace tanto ai residenti. E invece c'è questo schifosissimo parco, anche con alberelli e verde, dove si può venire per un minimo di relax e per un minimo di civiltà. Questo è quello che si può ottenere grazie ai parcheggi interrati. Non sarà l'eccellenza, ma sicuramente meglio delle scene atroci di sosta selvaggia e lamiere che si vedono solitamente nella nostra città.